Care vincere il bianconero, fa innervosire questa partita, fa innervosire perché questa partita, a differenza di altre, la Juventus non meritava di perderla, non meritava di perdere, anzi vi dico di più, questa partita la Juventus meritava di vincere a lei 2-1 e non in Napoli, perché il Napoli ha avuto sì un grandissimo possesso palla, 71%, ha fatto 670 passaggi contro 277, quasi il triplo, sì ma occasioni, quante ce ne ricordiamo di occasioni? Ci ricordiamo i gol, però nel calcio contano poi quelli, loro sono stati molto più cinici, nel senso che hanno avuto pochissime occasioni, addirittura il rigore parato da Scesni e messo in rete da Raspadori, ormai con la Juve segna sempre, segnava con Stassuolo, segnava con Napoli, segna sempre, 4 gol ha fatto finora alla Juventus, Raspadori, sarebbe meglio comprarlo, tanto noi quelli che ci fanno gol, De Ligt e Ronaldo, li compriamo, prendiamo anche Raspadori, è comunque un ottimo giocatore, però veramente è un risultato ingiusto, ma non solo è ingiusto questo risultato, è bugiardo, è un risultato bugiardo per quello che si è visto veramente in campo, perché la Juventus stasera, devo dire la verità, l'ha giocata, mi ha sorpreso che l'abbia giocata così bene, soprattutto perché era in una formazione molto rimaneggiata, con tanti giovani, e nonostante questo ha tenuto bene il campo e ha avuto tantissime occasioni, però, cioè, qual è l'errore fondamentale che commetta stasera la Juventus? Che tu hai tante occasioni, ne hai tantissime, e non segni mai, soltanto Vlaovic, Vlaovic ne ha solo avute tre nel primo tempo, e tre nel primo tempo, sono tanta roba, non dico che devi segnare, devi fare tripletta, però, porca miseria, va bene, una è finita sul palo e lì diciamo che sfiga, però, il primo colpo di testa esce tanto così, e il terzo è stato clamoroso, perché riesce a recuperare un pallone sulla loro tre quarti, e ti arriva con la palla e devi centrare la porta spalancata, devi centrarla, non devi tirare fuori, quindi ne hai avuto già tre, poi possiamo anche aggiungerci la quarta, no, perché era un po' defilato nel secondo tempo, quando hai ricevuto quel pallone, e fare il diagonale non era semplice, però tre nitide ne ha avute, almeno una devi segnare, cioè, Quora Schela ne ha una, cioè, stasera ha fatto il gol, ma è quello, il gioco del calcio è quello, è sintetizzato tutto lì, Cioè, chi fa gol vince, e se tu non segni mai, è chiaro che vincono gli altri, e questo è normale, però di occasioni ne hai avute, di occasioni ne hai avute, e infatti hai fatto un gol e meritavi probabilmente di vincere questa partita, a un certo punto sul gol di Chiesa, ho pensato che la Juventus potesse veramente vincere, perché questo Napoli, ditemi quello che volete, ditemi quello che volete, De Laurentiis può saltare quando cantano, chi non salta è il Juventino, può fare tutti i suoi show, ma questo Napoli è poca roba, in confronto a quello che vedevamo l'anno scorso di Spalletti, questa è poca roba, stasera ha avuto molta fortuna, è stato molto cinico, ha vinto la partita, ma tra il resto la partita l'ha fatta molto di più la Juventus, ha giocato molto meglio, ha giocato molto meglio, ha avuto molte occasioni, l'ultima con Rugani, che può fare anche il 2-2, e stavolta Rugani non ha centrato la porta, ma non lo voglio nemmeno condannare, però la Juventus ha veramente strameritato di vincere questa partita, invece purtroppo la perde, purtroppo la perde, e devo dire che non è una bella cosa aver fatto così pochi punti in così tante partite, stasera che era la partita più difficile l'hai giocata meglio che con Empoli, Udinese, Verona, Frosinone, l'hai giocata molto meglio, hai fatto 18 tiri, la media cosa diceva Allegri, la nostra media è 13 tiri, a Napoli, al Maradona, contro i campioni d'Italia, ne fai 18 di tiri, poi andiamo sul Rigone, il Rigone per carità, il tocco di nonge c'è, il tocco di nonge c'è, però veramente, qui ormai i contrasti nel calcio sono stati tolci, non esistono più i contrasti nel calcio, cioè appena entra, che poi quello non era un intervento duro, ma l'hai sfiorato, quell'altro, siccome passa in mezzo a due e siccome è furbo Osimè, si butta sempre Osimè, Osimè si butta sempre, come Lautaro Osimè, si butta sempre, sento un tocchetto e si butta, però in Inter-Napoli, in Inter-Napoli, in Rati, in Inter-Napoli, mi rivolgo a lei, in Inter-Napoli, non c'era lei probabilmente al VAR, però in Inter-Napoli, il tocchetto di Acerbi su Osimè, che si butta lo stesso, lì non lo vedete, per voi non è niente quello, la sera il tocchetto di nonge è subito rigore, nonge che è entrato malissimo, io dico, nonge non può stare, nonge non può stare in prima squadra, nonge non può stare in prima squadra, entri e ne combini più di Bertoldo, ti fai anche ammonire, dai per favore, a questo punto ha fatto bene che l'ha tolto, è un disastro, infatti continuavo sempre a sentire Allegri, continuavo a gridare di nonge, di qua, nonge di là, perché non va bene, e poi alla fine è stato anche spregiudicato, devo dire, stasera Allegri, perché ha giocato con, ha fatto l'Olin davanti, ha messo tutti, Vlaovic, Ildiz, Chiesa, Milik, tutti davanti, purtroppo non è andata bene, stasera devo dire una Juve molto sfortunata, molto sfortunata, però, ripeto, il Napoli ha capitalizzato tutto ciò che gli è passato davanti, poca roba, perché, ripeto, hanno fatto tantissimo possesso palla, ma da dire che hanno creato occasioni e soprattutto che hanno messo in difficoltà la Juve, no, mi dispiace, la Juventus ha messo più in difficoltà il Napoli, soprattutto quando si proiettava nella metà campo del Napoli, l'ho visto ovviamente in difficoltà, però il Napoli, due occasioni, ripeto, anche il gol, anche il gol del 2-1, e devi stare attento lì, lui, tu sai che quando la para, il portiere, si catapultano tutti in area, devi essere più lesto, devi arrivarci prima, Raspodori è stato bravo, ha bruciato tutti, ha bruciato tutti, è stato molto concreto il Napoli, molto concreto, poi devo anche dire appunto che l'arbitraggio non mi è piaciuto, soprattutto nella prima parte di gara, Mariani l'ho visto nervosissimo, ammoniva soltanto il giocatore della Juve, ha ammonito Vlaovic, dopo pochi minuti per un fallo che, insomma, è abbastanza ingenuo, c'è un falletto, un contrasto, ma ripeto, i contrasti ormai nel calcio sono stati aboliti, non esistono per questa classe arbitrale attuale, i contrasti, ogni tocco per loro è fallo, lo ha ammonito, adesso Vlaovic, perché era diffidato, salterà la parita con l'Atalanta, e ne crei pure un danno, ma perché ammonisce Vlaovic? perché Quarashkega fino ad allora aveva ricevuto già due falli, quello era il terzo, e allora aveva a punire Vlaovic, che era il primo fallo che faceva, ma si fa così, però ho visto nervosissimo, anche Cambiasso, si è vero, lo trattiene, a Quarashkega non lo tira, l'altro si butta in maniera plateale, ma si appoggia Cambiasso, proprio zero, non mi è piaciuto proprio niente, l'arbitraggio tutto nel primo tempo, e poi ripeto, il Ratti doveva salire sul piedistallo, a un certo punto mi mancava il Ratti protagonista della partita, alla fine se l'è creato il suo spazio, è riuscito a dare, a partecipare, a dare anche lui il suo contributo, dando il rigore che non l'ha neanche deciso, perché poi sulla ribattuta è azione, non è più rigore, ma comunque si è determinato tutto da lì, dispiace veramente, perché la Juventus stasera meritava molto di più rispetto a quello che è stato il risultato, risultato sicuramente bugiardo.